Everybody, yeah, rock your body, yeah, everybody, rock your body, right, Opel Carls back, all right! Finalmente sono disponibili qui da noi a Ratti Auto le Opel Carls Rocks, il crossover ultra compatto, ideale per viaggiare in città con grinta ed energia. Vediamo insieme quali sono le 10 caratteristiche che la rendono il mini SUV da città più rock and roll di tutti. Partiamo subito dall'esterno e parliamo di misure. È lunga, poco meno di 3,68 m, alta 1,50 m e larga 1,60 m. Insomma, davvero super compatta. Mi piace molto il frontale, giovane e fresco con il logo di Casa Opel al centro. E parliamo anche delle nervature laterali che le danno uno sprint in più. E le barre al tetto, pur non essendo di serie, si fanno piacevolmente notare. L'apertura delle portiere è davvero pazzesca, super ampia e comoda per garantire facile accesso a tutti. Il divanetto posteriore è molto confortevole perché il tetto non scende verso il basso ma rimane bello alto lasciando molto spazio sopra la testa. I 215 litri di capienza del bagagliaio di Opel Car Rocks non sono tanti. Alcune concorrenti offrono maggiore capienza. Ma, considerata la comodità dei sedili posteriori, ho capito l'intento di Casa Opel, ovvero offrire maggiore comodità ai passeggeri sacrificando un po' il bagagliaio. Ma vi assicuro che per i brevi viaggi o il borsone della palestra è più che sufficiente. Il sedile di guida è stato pensato con attenzione. La seduta è molto comoda e il volante è regolabile in altezza. Lo schermo touch che vedete è un optional da 250€ ma è presente incluso nel prezzo su tutte le nostre Carl. Ed è possibile accedere a tutte le funzioni dell'infotainment e connettere il nostro smartphone con le funzioni Apple CarPlay e Android Auto per avere tutte le app direttamente sul nostro schermo. Ed ecco un altro motivo per cui ci piace tantissimo, i comandi al volante, che sono super intuitivi e facili da usare, compreso anche il comando vocale. Da guidare davvero pazzesca, il cambio è svelto e liscio e rende la guida in città, dove i cambi sono frequenti, molto fluida e soddisfacente. Lo sterzo è reattivo e permette una guida rilassata. Inoltre è ben bilanciata e stabile e anche nelle curve più impegnative si mantiene ben ancorata a terra. Davvero provare per credere. Quanto mi piace la modalità City. Premendo questo pulsante lo sterzo diventa leggerissimo, tanto da rendere le manovre super agili e i parcheggi davvero no stress. Il motore mi piace perché è brillante e spinge bene. E, cosa da non sottovalutare, la Opel Car può essere guidata anche dai neopatentati che hanno conseguito la patente di guida da meno di un anno. Per quanto riguarda i consumi sono veramente bassi. Parliamo di 5-6 litri ogni 100 km. Insomma, cosa aspetti? Vieni a provarla, ci trovi a Barzago, a soli 30 km a nord di Milano. E per non perderti i nostri aggiornamenti, seguici sui social e vai sul nostro sito rattiauto.com